E adesso viviamo in finale due uomini al comando, è un allungo a due, sono due uomini in fondo a rettilineo che sono usciti per primi dalla curva e in questo istante il gruppo sta provando ad andare a recuperare, è lanciato il gruppo, ha messo in mira i due ma in questo momento un solo atleta che ha allungato solitario nel finale di gara, è un arrivo solitario in casa Ronco Maurici e il tifo, il tifo del pubblico che si è scatenato in questo ultimo